Ultimi ritocchi al tratto di fondo stradale sterrato della provinciale 172 del Colle delle Finestre su cui sabato 30 maggio transiteranno i corridori del Giro d'Italia. Nelle ultime due settimane i tecnici del servizio esercizio viabilità della città metropolitana di Torino hanno rimosso la neve nella parte alta della strada, poi hanno lasciato riposare per qualche giorno il terreno e hanno proceduto alla pulizia del tratto asfaltato della 172 da Meana al Colletto con il taglio delle erbe, delle ramaglie e la pulizia dei fossi laterali. Lunedì 18 maggio è iniziata la delicata operazione di sistemazione del piano viabile sterrato con il livellamento, il trasporto di nuovo materiale stabilizzato a nidro fine, il trattamento con la macchina Greder che fresa e livella il terreno, la bagnatura e la rullatura finale dello sterrato. Anche nel tratto asfaltato della provinciale 172 che scende dal Colle delle Finestre al Pian dell'Alpe di Ussò sono stati sistemati alcuni tratti del piano stradale, così come nel tratto della regionale 23 dal Pragelato al Colle del Sestriere. Sì è stata una grande prova di collaborazione, di integrazione nei rapporti tra la nostra struttura tecnica, quindi dobbiamo ringraziare davvero per il lavoro fatto i nostri cantonieri, i nostri geometri, per il lavoro straordinario che hanno anche questa volta sono riusciti a realizzare in collaborazione in sinergia con le amministrazioni locali. Credo che questo sia davvero il valore aggiunto che noi riconosciamo e che noi portiamo in dote alla città metropolitana. C'è un'esperienza di questo servizio esercizio e viabilità proprio nella gestione delle strade di alta montagna? Assolutamente sì, è una delle nostre competenze, è una delle nostre peculiarità e devo dire che davvero chi avrà piacere di salire al Colle delle Finestre sabato vedrà uno spettacolo straordinario, uno scenario meraviglioso e credo che questo paesaggio meraviglioso rappresenti davvero un valore aggiunto della città metropolitana di Torino, unico nel panorama delle città metropolitane italiane e forse addirittura europee.